Mi rendo conto che quando realizzo questo tipo di video parlo molto spesso di target e talvolta probabilmente avrò dato qualcosa fin troppo per scontato. Quello che voglio fare oggi assieme a voi è spiegarvi nel dettaglio che cos'è il target ma soprattutto come si va a costruire, quindi come si va a individuare il target dei clienti giusto per la nostra impresa. Prima di iniziare questo video è opportuno che mi presenti. Io sono Saverio Cirillo, mi occupo di digital marketing dal 2015 e quando ho iniziato a lavorare per una società per azioni, come sempre ci ha detto marketing, nel corso di qualche mese sono stato promosso da addetto marketing a responsabile dell'ufficio marketing e nel corso dei due anni successivi, dopo aver acquisito abbastanza esperienza all'interno di quella impresa e aver preso i miei primi clienti esternamente all'azienda ho deciso di avviare la mia agenzia di digital marketing che lavora totalmente online. Il nostro lavoro consiste nell'aiutare piccole e micro imprese sulle quali siamo specializzati ad affacciarsi a questo mondo, conoscerlo e accompagnarli passo passo fino al raggiungimento di una maggior visibilità e di conseguenza maggiori clienti. Il mio lavoro qui su YouTube consiste nell'effettuare formazione in ambito di digital marketing e crescita aziendale, perciò se sei interessato a questo tipo di tematiche ti invito ad iscriverti al canale. Detto ciò iniziamo questo video. Quello del target è un tipo di concetto da cui tutte le imprese devono partire specie se vogliono ottenere dei risultati nel breve periodo cercando di spendere quanto meno possibile a livello di budget in marketing. Il target diventa essenziale nel momento in cui abbiamo necessità di acquisire clienti proprio perché il target ci consente di individuare qualche potenziale cliente quanto dobbiamo investire per poterlo catturare e di conseguenza acquisirlo poi come cliente effettivo. Solitamente si identifica come target un cliente che rientra in un determinato gruppo ovvero in una determinata cerchia. Il primo esempio può essere quello della localizzazione ovvero è possibile che i nostri clienti o comunque i nostri potenziali clienti risiedano tutti in un determinato luogo quindi per esempio possa essere su Milano, possa essere Roma, possa essere Gravini in Puglia o Altamure o Bari o qualche è. Quindi questo è un tipo di caratteristica del nostro target ovvero un modo per raggruppare un determinato gruppo di persone. Altre caratteristiche possono essere il potere d'acquisto e qui si fa la prima differenziazione con quella che ha la vostra concorrenza perché magari il vostro prodotto non può essere acquisito da tutti quanti supponete che voi siate Giorgio Armani o Louis Vuitton ovviamente non è possibile pensare che chiunque possa essere interessato all'acquisto magari si può piacere il tuo prodotto ma magari il tuo prodotto non è per tutte le tasche quindi già da lì si va a differenziare qualche un certo tipo di target ovvero un target che ha un potere d'acquisto magari maggiore rispetto ad un altro. Altro aspetto che è legato direttamente ad esempio a Facebook sono gli interessi magari quello che stai vendendo è interessante per una determinata cerchia di persone supponiamo che tu stia vendendo una chitarra elettrica magari andare a indirizzare chi si occupa di musica classica non è così tanto interessante invece cercare di prendere persone che magari sono interessate al rock al hard rock e quindi magari possono essere interessati all'acquisto di una chitarra elettrica è molto più importante. Perché si va a definire questo tipo di target o comunque questo tipo di aspetti? Semplicemente per un motivo ottimizzare ottimizzare cosa? Principalmente i costi più che altro oltre che dal punto di vista della comunicazione quindi se tu stai facendo questo tipo di lavoro lo stai facendo perché magari non hai un grosso budget da spendere come nel caso delle mie imprese che sono piccole e micro imprese ma soprattutto perché devi fare un certo tipo di comunicazione magari comunicare a chi ha un potere d'acquisto più elevato sarà diverso rispetto a comunicare a chi effettivamente non ha potere d'acquisto quindi dovrai utilizzare magari termini completamente differenti nel mio caso ad esempio nel momento in cui faccio dei video io so per certo che mi sto riferendo a persone che non hanno competenze in questo ambito o comunque hanno visto diciamo tra virgine di sfuggita qualche digital marketing non l'hanno compresa pieno e stanno cercando di capirne qualcosina in più quindi magari titolari che si stanno interessando loro per primi a capire effettivamente se questo tipo di ambito può essere interessante per la loro impresa di certo nel mio caso non vado a puntare alle grandi imprese perché le grandi imprese non potrei prima di tutto prenderle tramite questo tipo di canale o comunque non in questo momento ma allo stesso tempo il tipo di linguaggio che utilizzo non è indirizzato a loro è indirizzato alle piccole e micro imprese che sono appunto il mio target altro aspetto che è da considerare non esiste un solo target è sbagliato pensare a questo tipo di discorso cioè è impensabile che la tua azienda abbia effettivamente un solo tipo di cliente assolutamente no semplicemente perché magari a quel tipo di prodotto possono essere interessate più categorie di persone quindi in quel caso dovrai differenziare i vari tipi di target che esistono diciamo che la definizione più adatta più che target in quel caso è definire le cosiddette buyer personas perché? perché semplicemente è un approfondimento maggiore e ti consente di categorizzare per ogni tipo di articolo chi può essere interessato a quel tipo di prodotto o di servizio questo non è ciò di cui tratteremo oggi ovvero le buyer persone ne parleremo molto probabilmente in un altro video dedicato perché è un argomento molto più complesso di quello che è il target infatti si va molto più in profondità perciò oggi ci soffermeremo su questo quello che facciamo adesso è cercare di capire tramite i sei semplici passaggi come andare a identificare il nostro target numero uno la prima cosa che dobbiamo analizzare sono le necessità ovvero se tu pensi al tuo prodotto o servizio qual è effettivamente la necessità che è in grado di risolvere? cioè qual è il problema che il tuo prodotto o servizio è in grado di risolvere? in base a quello devi cercare di capire chi è il cliente che possa avere effettivamente quel tipo di problema chi ha quel problema come necessità primaria dopo che hai identificato quella che è la necessità primaria dovrai capire quali altri problemi può risolvere il tuo prodotto o servizio e in base a quelli andare a delineare quel che è il target secondario quindi quello che ti dicevo prima tu hai il target primario che sono le persone che effettivamente possono essere interessate al tuo prodotto o servizio perché magari sono in grado di risolvere un determinato problema e poi un target secondario che magari può essere potenzialmente interessato ma magari meno del primo è tra virgolette il tuo piano B dopo che hai identificato qualche necessità il secondo passo è tracciare un dipinto ok qui non dovete ammetterevi a fare disegni semplicemente dovete cercare di capire qual è tra virgolette l'aspetto del vostro cliente il nostro obiettivo in questa fase è cercare di restringere qualche campo dei clienti potenziali perché magari siete partiti che avete visto che effettivamente di 100.000 persone che è composta la vostra città o comunque nel raggio di 10-15 km vi siete resi conto che potenzialmente al vostro prodotto o servizio possono essere interessate 15.000 persone 20.000 persone 30.000 persone ok adesso dobbiamo andare a restringere qualche campo perché il nostro obiettivo come abbiamo detto prima è ottimizzare quindi magari fare pubblicità a valanga a chiunque non serve a niente perché magari spendiamo troppo budget quando invece se avessimo restretto il campo e speso meno budget avremmo ottenuto lo stesso tipo di risultati quindi a questo punto cerchiamo di delineare in base a quelle che sono le necessità il ritratto del nostro cliente dopo aver fatto questo tipo di lavoro dobbiamo iniziare ad operare una segmentazione che cosa significa? segmentare significa dividere quindi come abbiamo già detto prima l'obiettivo nostro a questo punto è abbiamo individuato il nostro pubblico potenziale lo abbiamo suddiviso per interesse se abbiamo visto qualche cliente ideale chi vogliamo andiamo a segmentare come lo segmentiamo? per diversi aspetti che già vi ho elencato un po' prima ovvero località quindi magari se hai un pubblico che abbiamo già detto prima di 100.000 persone li puoi dividere per esempio fra due paesi quindi hai già due località diverse quindi due modi di atteggiarti e comportarti in maniera diversa altro aspetto l'età perché come parlerai a un adolescente sarà diverso rispetto a come parlerai a un cinquantenne e un sessantenne quindi anche a livello di comunicazione e marketing sarà diverso ulteriori aspetti possono essere quelli che già vedete su facebook se sono sposati se sono uomini o donne sono donne non danne sono tutti aspetti che effettivamente potrebbero caratterizzare il vostro cliente tipo quindi li vai a segmentare da questo punto di vista vai a capire effettivamente quanti micro target si stanno creando terzo aspetto di tutte queste segmentazioni che hai fatto individua il cliente ideale io lo so quello che state pensando in questo momento siamo partiti che avevamo 100.000 qui siamo arrivati a 50.000 qui mi stai dicendo che praticamente ne devo prendere 10.000 il mio obiettivo non è togliervi i clienti il mio obiettivo è farvi insistere a livello di sponsorizzate a livello di comunicazione a livello di marketing unicamente su chi è interessato al vostro prodotto o servizio e quindi di conseguenza ottimizzare il budget ripeto questo canale è indirizzato principalmente alle piccole e micro imprese quindi a chi non ha effettivamente così tanto budget da poter spendere è necessario a quel punto dover ottimizzare magari una grossa impresa non ci perde niente a mettere lì 5.000, 6.000, 10.000 euro al mese in sponsorizzate ed acquisire i clienti che magari noi possiamo acquisire con 100, 150, 200 euro al mese magari lottando di più tra virgolette facendoci più il mazzo tra virgolette tra molte virgolette però l'obiettivo nostro è appunto ottimizzare come si individua a quel punto il cliente ideale? la domanda che dovete farvi sempre mettendovi nell'ottica del cliente perché ripetiamo il marketing è psicologia applicata la domanda che dovete farvi è semplicemente una se il mio cliente sceglie la mia offerta quali sono i benefici maggiori che potrebbe ottenere? cioè perché il cliente deve scegliere la mia offerta? la prima domanda la seconda domanda se non dovesse sceglierla che cosa si sta perdendo quel cliente? perché effettivamente quel cliente rischia di perdersi un'opportunità enorme? ok da lì potete iniziare a delineare effettivamente qual è il cliente che possa essere più o meno interessato alla vostra offerta ulteriore domanda che potreste farvi semplicemente per andare a semplificare questa procedura è quale cliente ci rimetterebbe se non prende la vostra offerta? nel mio caso per andarvi a semplificare la cosa io avrei potuto scegliere di fare digital marketing a qualsiasi tipo di impresa grande piccola dita individuale ho scelto semplicemente le piccole e micro imprese come le ditte individuali perché? perché semplicemente so che il tipo di lavoro che faccio è molto più importante per loro rispetto a una grossa impresa perché magari una grossa impresa è un altro tipo di esigenza necessita di un'assistenza continuativa necessita di praticamente vederti ogni giorno nel caso della piccola impresa se si lavora sulla programmazione e sulla strategia basta tra virgolette anche un paio di appuntamenti al mese un appuntamento a settimana nel caso di tra virgolette un pochino più gravi dove c'è effettivamente da star dietro quindi io ho fatto una segmentazione mi sono individuato il cliente ideale nel mio caso che cosa si perde il cliente che non mi sceglie? si perde il fatto che io sono specializzato su quell'ambito ovvero non prendo altre aziende di quel tipo scelgo unicamente le aziende piccole e micro di contro il costo economico non deve essere l'unica differenziale in questo caso dipende anche quali che sono fattori puramente emotivi ovvero se voi siete in grado tramite la vostra offerta tramite il vostro servizio di alleviare quello che è lo stress del cliente quello vale come punto differenziante per il vostro cliente ideale cioè nel momento in cui state supponiamo che voi siate un centro estetico e state offrendo un massaggio che sapete benissimo che può essere molto più apprezzato da un libro professionista per qualsiasi voglia motivo perché magari è molto più stressato rispetto ad un adolescente fare una comunicazione sceglierti quello come cliente ideale dicendo ti faccio l'esempio una sponsorizzata dicendo se un libro professionista è l'ora di staccare un attimo una spina è diverso rispetto all'impatto che può avere su un adolescente che magari è stra pieno di energie e non vede nel massaggio un qualcosa di estremamente importante questo è un esempio di come varia la comunicazione semplicemente cambiando fascia d'età e professione quarto aspetto da considerare la nicchia si parla tanto di nicchie di mercato la nicchia di mercato è un'ulteriore segmentazione di quello che stavamo dicendo prima del cliente ideale perché magari la nicchia di mercato ha un certo tipo di interesse ha un certo tipo di abitudine che non può essere differenziata qui cioè a livello di località, età e se sposato o meno che sono diciamo caratteristiche alla fin fine essenziali ma che non vanno ad impattare sull'interesse invece la nicchia cioè lo scegliere da parte del cliente un tipo di servizio rispetto a un altro ti consente di differenziarti io dico sempre ai miei clienti nel momento in cui iniziamo a fare sponsorizzate è sconsigliabile fare le sponsorizzate puntando a tutta Facebook o puntando a tutti e due paesi magari tre paesi nei dintorni è meglio invece puntare ad una nicchia più piccola e faccio riferimento a questo perché? perché semplicemente nel momento in cui io faccio una sponsorizzata a tutta Facebook è possibile che magari uno, due, tre, quattro clienti li prendo se invece ho preso quei clienti li metto tra virgolette in un laghetto più piccolo quindi dove effettivamente sono solo loro e magari altri clienti selezionati nel momento in cui devo andare a fare sponsorizzato o dove devo andare a pescare non vado a pescare verso tutta Facebook vado sul laghetto piccolino perché è molto più semplice per me pescare il pesce che mi interessa che magari è stato nutrito nel corso del tempo tramite un piano editoriale ne abbiamo parlato tante volte di queste cose e nel momento in cui lo vado a pescare paradossalmente mi fa mangiare di più a questo punto la nicchia oltre a differenziarsi da questo punto di vista si può differenziare anche per tipo di lavoro tipo di interesse anche a livello politico vi scrivo politico e tipo di interesse dove per interesse intendo la vostra sponsorizzata o comunque la vostra azienda dove vuole vendere? vuole vendere nel locale? quindi all'interno dello stesso paese? o magari nei paesi limitrofi? vuole vendere a livello regionale? vuole vendere a livello nazionale? o internazionale? qui ti vai a fare dei diversi tipi di nicchie ok? quindi scegli la tua nicchia e in base a quello fai comunicazione quinto aspetto le competenze ok abbiamo analizzato vita, morte e miracoli dei nostri clienti a questo punto dobbiamo analizzare noi stessi ovvero la nostra impresa cercare di capire che cosa siamo in grado effettivamente di offrire cosa si intende? si intende semplicemente ad esempio la differenza dei competitor ovvero perché un'azienda dovrebbe scegliere Saverio Cirillo rispetto a Tizio Cario per fare digital marketing che cosa mi differenzia devo specificarlo all'interno della comunicazione non è che devo scriverlo per inciso però almeno devo far capire a livello puramente testuale la differenza che c'è anche nella landing page devo far capire qual è la differenza se fate caso ad esempio al mio sito web è abbastanza evidente quali sono i benefici e le differenze con la concorrenza allo stesso modo dovete porvi con la vostra impresa altre competenze possono essere specializzazioni come nel mio caso io sono molto specializzato nel lavorare con le piccole e micro imprese magari voi siete specializzati nel lavoro con avvocati per modo di dire questo è un tipo di aspetto che va considerato nel momento in cui evidenziate quelle che sono le vostre competenze perché il vostro pubblico ideale magari è un gruppo di avvocati non chiunque o una parte del pubblico ma magari se sapete già che il vostro cliente è quello puntate principalmente a quello come target primario oppure siete specializzati nell'offrire un determinato servizio o magari l'offrite solo voi nella vostra zona nel mio caso l'esclusiva ovvero se io scelgo un cliente che va raggiungere un tot di budget gli dono tra virgolette l'esclusiva nel territorio ovvero non prendo aziende competitor esempio prendo una pizzeria se questa pizzeria svolge un determinato numero di servizi assieme a me io gli dono tra virgolette l'esclusiva ovvero il cliente sa che non passo tra virgolette le sue idee magari altri competitor mi sceglie a tutto tondo e io scelgo lui a tutto tondo nel vostro caso qual è la differenza tra voi e i vostri competitor perché il cliente potenziale debba scegliere voi rispetto ai vostri competitor qual è il valore esclusivo che offrite altro aspetto può essere derivato dal numero di persone o tipo di clienti con cui volete lavorare magari come nel mio caso non siete interessati a prendere qualsiasi tipo di cliente magari volete scegliere i vostri clienti cosa buona e giusta e ve la consiglio perché io personalmente preferisco alzarmi più felice la mattina e non stressato da un cliente che sta lì sempre costantemente a rompere le scatole preferisco un cliente che effettivamente si fida del mio operato e non mette costantemente in dubbio quello che faccio nel mio caso io il cliente me lo scelgo se voi fate lo stesso tipo di cosa è una cosa che dovete considerare quindi è un tipo di competenza che è a voi affine e che allo stesso tempo dovete considerare nel momento in cui fate marketing e comunicazione e allo stesso tempo nel momento in cui definite un target sulla base di questi 5 punti possiamo andare a identificare a questo punto il nostro target ma come lo andiamo a identificare studiando un'offerta dedicata per quel tipo di persone quindi abbiamo detto che siete interessati ad avvocati benissimo sappiamo tutto da questo punto di vista partendo dal primo punto passando al secondo capendo effettivamente dove si trovano il tipo di età se sono sposati se non sono sposati che tipo di lavoro fanno a questo punto e poi scegliendo appunto la nicchia e di conseguenza stilando le competenze a questo punto possiamo iniziare a studiare l'offerta però prima di studiare l'offerta dobbiamo seguire il sesto punto ovvero i competitor quando si fa l'analisi di mercato specie quando la faccio con i miei clienti la prima cosa che faccio è analizzare i competitor ovvero rendermi conto con chi abbiamo a che fare ovvero con chi dovremo misurarci mese dopo mese nel momento in cui iniziamo ad esempio una gestione sponsorizzata voi dovete fare la stessa identica cosa a priori cioè prima ancora di lanciare il vostro prodotto o servizio necessariamente dovete cercare di capire i competitor come si muovono che cosa fanno ovvero cercare di identificare tutti i punti dall'1 al 5 non per voi ma per i vostri competitor se riuscite a comprendere benissimo qual che è la strategia dei vostri competitor voi potete muovere di conseguenza io dico tante volte ai miei clienti osserviamo quali che sono i punti di forza dei tuoi competitor e i punti di debolezza troviamo i punti di debolezza e insistiamo su quelli perché lì possiamo andare a vincere la battaglia ok io la vedo sempre diciamo in un certo senso a modo di sfida a modo di guerra ma è semplicemente per rendere meglio il concetto detto ciò arriviamo alle conclusioni il target è fondamentale in ogni tipo di strategia di marketing in ogni tipo di comunicazione non parlo in questo caso di digital marketing ovvero quello che ci compete su questo canale ma parlo di qualsiasi tipo di aspetto anche nel momento in cui dovete lanciare un prodotto offline quindi che magari sfrutterà i canali tradizionali di marketing ok in quel caso è necessario fare questo tipo di studio perché il problema è qual è che magari se avete tanto budget magari per voi non è un problema ma risparmiare quindi evitare eventuali strumenti che possono essere deleteri vi faccio l'esempio se siete un autospurgo faccio sempre questo esempio limite io lo so e iniziate a fare comunicazione su facebook c'è qualcosa che non va evidentemente avete investito male il vostro budget perché il vostro target sì potenzialmente potrebbe essere su facebook ma chi è interessato al vostro prodotto o servizio di certo non lo va a cercare su facebook non voglio neanche sapere effettivamente cosa andate a postare poi come immagini a livello di facebook ma allo stesso tempo la mia domanda è dov'è il vostro cliente come vi cerca il vostro cliente avete risposto a queste domande la risposta più plausibile è google ok google chi ci cerca su google che tipo di versione cerca su google se sappiamo che magari fino ai 40 50 anni ci cercano su google e tutti gli altri continuano a cercarci sulle pagine gialle o vanno avanti col bigliettino da visita che devi consegnare porta a porta perché magari la vecchietta che ha la casa in campagna non c'ha google e quindi continuano a cercare da quel punto di vista è un qualcosa che voi dovete documentarvi all'inizio di certo non dopo essere partiti cioè non pensate di avviare un'impresa e poi dopo valutare sì però effettivamente devo fare un altro tipo di lavoro rispetto a questo no avete perso dei soldi in quel caso quindi cercate di documentare e fare studi di mercato e di target prima di iniziare a fare qualsiasi tipo di strategia detto ciò se il video vi è stato utile vi invito a lasciare un like lo apprezzo particolarmente se avete qualche domanda un commento qui sotto per vedere e rispondervi e vi invito come al solito ad iscrivervi al canale e a seguirmi sui miei canali social detto ciò vi saluto e vi rimando ad un prossimo video grazie a tutti